Una rapina è effettuata con un tempismo perfetto. Un benzinaio è stato aggredito e rapinato da due uomini nel preciso momento in cui stava depositando l'incasso della giornata. Si trovava infatti nei pressi della filiale della banca Unipol di via Faentina ieri sera intorno alle 20. 4000 euro contenuti in una cassettina di sicurezza è stato il bottino portato via da due malviventi, da quanto riportato dalla vittima di origine magrebina, che gli avrebbero tirato un pugno per sottrargli il denaro. Dopo una breve colluttazione, ove gli assalitori avrebbero avuto la meglio, i due uomini si sarebbero dileguati a bordo di un'arena twingo scura, direzione periferia della città. Ora gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza per poter identificare i rapinatori. La caccia all'uomo da parte degli inquirenti è partita, ma finora non ha portato a nessun risultato. Intanto al benzinaio aggredito è stato consigliato di recarsi al pronto soccorso, quindi ha certamente delle sue condizioni di saluto.